Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games, io sono Carlo e oggi ragazzi siamo tornati per fare un nuovissimo video, oggi in particolare siamo nel video After Movie di Luca Comis and Games 2015 Non sono riuscito a registrare un intro per questo oggi mi ritrovo qui a fare questa breve spezione di video, io spero che questo video vi piaccia, ci vediamo al prossimo, bella! I was blinded in, and I don't see it, once again! Let the beat work! I was blinded in, and I don't see it, once again! I was blinded in, and I don't see it! I was blinded in, and I don't see it, once again! That's a beat, what? That's a beat, what? That's a beat.